E' diventato ormai un'abitudine anche questa per me, alla quale ero veramente non avvezzo, quella di comunicare alcuni aspetti che stiamo facendo come Università. Intanto permettetemi di ringraziare e di abbracciare virtualmente tutto il personale tecnico e amministrativo che sta lavorando senza interruzioni di sosta, senza nessuna esitazione per far sì che la nostra attività continui unitamente ai miei colleghi. Sono molto contento dell'attività che stiamo svolgendo sulle lauree, sulle lezioni a distanza, sugli esami, consentendo ai nostri ragazzi di laurearsi e di andare avanti nel loro percorso di studio. L'Università ha continuato la sua azione in questo momento di difficoltà, continua regolarmente la produzione del gel che viene distribuito a tutti coloro che ce lo chiedono. Abbiamo un'attività importante col centro CERIP che si è allargata in sinergia col Comune per dare supporto psicologico alle famiglie, a coloro che ce lo chiedono. E da quando è uscita la notizia ieri, avanti ieri scusatemi, sui giornali del gruppo di Christian Fracassi che aveva trasformato con una valvola diversa la maschera di Decathlon, ci siamo subito attivati con i colleghi del Dipartimento di Ingegneria che ringrazio in maniera particolare il professor Cucinotta, il professor Ricitano e il nostro grande dottorando Fabio Salmeri che coordinati dai Damilone hanno subito preso i contatti. Abbiamo sentito Christian Fracassi che ci ha dato i disegni e oggi è stata già sviluppata la prima valvola, il prototipo, che verrà approvata su una maschera che ci è stata donata da un nostro collaboratore per comprendere con i colleghi del Policlinico se e come funziona questo sistema della maschera Decathlon già utilizzato in altri ospedali al nord. Abbiamo sentito personalmente il professor Marco Ranieri che è il collega della rianimazione del Sororsola a Bologna e perché stiamo sempre con gli stessi colleghi ingegneri mettendo in campo tutte le nostre risorse e le nostre eccellenze per provare a realizzare rapidamente i circuiti, rendere un ventilatore doppio come stanno facendo lì a Bologna anche qui siamo in attesa di questi circuiti ma siamo certi che con le nostre expertise riusciremo a ottenere questo risultato. E infine, soprattutto, questa attività verrà svolta anche in sinergia con un'azienda, l'azienda Iritec che ci ha dato la sua disponibilità a convertire la sua produzione anche per queste valvole sia quelle della maschera Decathlon sia quelle dell'ipotetico circuito che stiamo sviluppando. È un piccolo passo, è un modo di esserci, di essere presenti e di essere vicini a coloro che stanno facendo questa attività sanitaria in maniera importante. Ma la cosa più importante, che non mi stancherò mai di ripetere, che dà un senso a tutti questi video è quello che dobbiamo rispettare le regole e stare a casa perché è l'unico modo di evitare il contagio. E tutto questo sono certo che facendolo rapidamente torneremo a vivere le nostre strutture universitarie, la nostra città nel modo più bello e più gioviale possibile nel rispetto sempre della libertà di ognuno di noi. Grazie e stiamo a casa.